Vado a consegnare il roto l'Inter School e i comms, per la prima volta si beccano il roto, andiamo. Stanno facendo riunioni di squadra, è il momento giusto. Andiamo, guarda qua. Vincito, un riunio. Signori comms, signori comms! Vado un po' la partita, vado un po' la partita. Cosa montana, cosa montana. Ma cosa sta succedendo ai comms? Non si sa. Zero punti in serie B, l'anno scorso festeggiavate. Siamo proprio delle M.R. quest'anno. Addirittura. Per le M.R. ci vuole un bel roto, no? Ci vuole un po' la partita. Mi è costato 18. E ora che un rotolo si rifà sicuramente. Allora facciamo così. Se noi oggi prendiamo, questo rotolo te lo tiriamo in testa a fine partita. Se vinciamo, poi ti do un bacio in fronte. Sì. Poi, intanto il rotolo ve lo beccate. Questa è tutta col tuo. Queste due giornate avete tanto deluso. Vi siete arrotolati. E' il nostro brano. Dov'è il culello? Il culello è la roba. Oggi è più possibile. Oggi vinciamo sicuro. Non c'è il culello. Ma poi lui che è nuovo, si becca già il rotolo ragazzi. Ma che figura gli fate fare? La bellata la dai. Ciao. Vabbè ragazzi dai, in bocca al lupo per la partita. Vedevo che stavate facendo una piccola riunione di squadre. Sì. Vabbè. Oggi c'è il derby. Non si può perdere. Con il rotolo, magari in caso di vittoria orsete il trofeo. Vabbè. Molto a volte ci sono di tutte le partite. Vabbè ragazzi. Grazie. Sei sempre al momento giusto. Sempre buono. E' stato un piacere. Vabbè. Beccatevi questo rotolo il primo. Salutiamo i comps. I comps. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.